Buongiorno, buon pomeriggio o buonasera a seconda del fuso orario. Gli americani hanno trascorso in gran parte la giornata di San Valentino spalando la neve o acquistando qualcosa per se stessi, visto che il numero dei singles in questo paese sta aumentando a dismisura, ma alla giornata degli innamorati o presunti tali ha dedicato spazio anche l'austero Wall Street Journal con un articolo dal titolo «È amore oppure malattia mentale?». Il giornale cita studi recenti secondo i quali la definizione di innamorato pazzo ha una giustificazione medica. Attraverso esami fatti con macchine a risonanza magnetica è emerso che nel cervello di chi è innamorato si scatenano dei temporali chimici, identici a quelli che caratterizzano il cervello dei tossicomani o delle persone affette da disordini mentali ossessivi. Le analisi hanno poi messo in evidenza che la rottura di un matrimonio o di una relazione può innescare dei seri problemi di salute. Il Quotidiano, per confermare queste tesi, fa riferimento ad un non meglio identificato studio fatto da scienziati italiani che hanno preso in esame i livelli di serotina nel cervello suggerendo che non c'è differenza tra innamoramento e malattia mentale. E per quanto riguarda le coppie stagionate l'intensità dell'amore svanisce nel tempo ed è rimpiazzata da un forte sentimento di attaccamento e di appartenenza. Ecco perché per mantenere alta la vita di coppia bisogna reinventarsi nuove occasioni di interesse che possono far rinascere l'amore. Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione. Molti cordiali saluti da Oscar Bartoli, Washington DC.